Musica Ci troviamo qui a Castrovilleri l'8 ottobre, una bellissima giornata qui sul Pollino, intervistiamo il presidente dello Sporting Club Città di Miletto, Mimmo Bulzomi. Dopo la festa di ieri, tutto il rosa Miletto, siamo qua a Castrovilleri che abbiamo consegnato pochi minuti fa assieme a Gerardo Sacco il premio Pollino al direttore del Giro, con una speranza, con una grande speranza che il Giro possa ritornare in Calabria e possa fare una tappa a Crotone. Speriamo, noi faremo di tutto, ce la metteremo tutta e speriamo di riuscirci. Grazie, arrivederci a presto. Musica 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 Grazie per la visione!